Marta Manegatti e Valentina Gottardi qui a Caorle per le finali Scudetto, nella stessa arena dove esattamente un anno fa avete vinto la tappa. Oggi per voi è un percorso netto fatto di due vittorie, domani inizia una fase diversa di questa tappa, quindi la fase in dimensione diretta. Cosa vi aspettate e un giudizio su queste due gare di oggi? Marta e Vale un anno dopo. Facciamo il compleanno qua a Caorle perché è stato il nostro primo torneo insieme l'anno scorso. Abbiamo dei bellissimi ricordi, quindi vogliamo comunque rafforzarli quest'anno. Oggi è andata bene, due vittorie su due, domani un altro giorno. Ovviamente il torneo si farà sempre più difficile, come giusto che sia, e noi ci faremo trovare pronte. Valentina, come hai detto, domani si riparte dal terzo turno, le avversarie le conosceremo più tardi. Quali sono le tue sensazioni sulle gare di oggi, ma soprattutto quello che ti aspetti nelle giornate di sabato e di domenica? Il percorso è ancora lungo, abbiamo ottenuto le prime due vittorie del torneo e cercheremo di dare il nostro massimo per continuare a vincere le prossime partite. Ovviamente il livello si alzerà perché a mano che si prosegue nel torneo le squadre sono sempre più forti, ma saremo pronte. Grazie mille, complimenti.